Buongiorno a tutti, grazie a tutti e a tutti i DJ e il Fly, per favore... Fly! Andate! In te e il Fly, che stiamo... In te? Alla batteria! E ci sono prestati a... a suonare con noi e ci siamo venuti molto lì E' un buon esempio, non c'è il permesso di fare e questo triconto è una rosa splendida, grazie! Super, resistenza per le vivre Ho dovuto girare, devi mangiare! wor 데i tutta la Чтобы le vanno Eci km per il governo Ho dovuto girare, devi mangiare... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.